Fuori dalla Coppa, la Ciale ieri al Celeste perde 3-1 con il Città di Messina e lascia la competizione. Prestazione quella dei Granata che lascia con l'amore in bocca, ma che evidenzia però più delle difficoltà atletiche che una vera e propria inferiorità nei confronti degli avversari. Mister Gardano cambia ancora e presenta un 11 con un unico attaccante di ruolo, mentre in difesa e in mediana vengono schierate tutte le frecce al proprio arco. Dopo un tentativo accese su punizione al sesso, c'è già il vantaggio per Oritano. Fallo plateale di Capitan Patti, in pessime giornate il giocatore procurerà poi un secondo rigore e verrà anche espulso nella ripresa. Dal dischetto Tiscione, 1-0, neanche 8 minuti e c'è il raddoppio di Buda che taglia la difesa accese indussurbato. Si fa il 2-1 con la rete di Cortese, nella ripresa fuori Castellano per la Corte, Scilipò di percorso. Poi, proprio mentre si preparava ad entrare Tedesco, tentando così di pervenire al pareggio, ecco l'altro episodio in area di rigore e secondo penalty trasformato questa volta da Saraniti. Da segnalare un legno a testa, Ancione, il palo, Citro, la traversa all'altro lato ed ora all'orizzonte il campionato, sempre con trasferta a Messina. Domani intanto al Tupparello, start per i lavori ai fari.